Il 31 dicembre la carta d'identità cartacea andrà in pensione ed il comune di Napoli rilascerà solo quella elettronica. La nuova carta sarà stampata dal ministero e spedita a casa del cittadino entro sei giorni. Sarà possibile indicare la propria volontà di iscriversi al registro dei donatori di organi ed il costo passerà da 10 a 22 euro. La carta sarà inoltre accettata da tutti i paesi europei mentre a breve quella cartacea non sarà più valida per viaggiare. Dal 1 gennaio 2017 il servizio di rilascio e duplicato sarà attivo presso tutte le sedi delle municipalità cittadine.